Il Protein Pass è il programma nutrizionale di Yara che applichiamo in collaborazione con i nostri clienti partner e ci permette di massimizzare le rese e la qualità del frumento duro, basandoci su alcuni principi fondamentali, quali la scelta della giusta tipologia di fertilizzante, il frazionamento delle unità fertilizzanti e insieme all'utilizzo di alcuni strumenti digitali per il supporto alle decisioni. Abbiamo validato la nostra proposta al Protein Pass negli anni con una serie di prove di campo in cui abbiamo potuto dimostrare come il nostro programma riesca a migliorare sia la quantità che la qualità dei raccolti rispetto ai piani di nutrizione tradizionali che fanno uso principalmente di uria che è una tipologia di azoto a più bassa efficienza. Il Protein Pass si basa su un intervento nella fase di presemina con Yara Mila Supersemina seguito da un intervento con Yara Bella Sulfa nella fase di accestimento per stimolare lo sviluppo dei culmi e quindi aumentare il potenziale produttivo e poi un secondo intervento nella fase di levata per supportare al meglio la fase produttiva quantitativa e di qualità. Per ottimizzare la risposta nutrizionale del programma Protein Pass con Yara Mila e Yara Bela consigliamo anche l'impiego della gamma dei fertilizzanti Yara Vita attraverso quindi delle applicazioni fogliari. In accestimento consigliamo l'impiego di Yara Vita Combifos un energy drink per le nostre culture che sostiene lo sviluppo radicale e supporta la pianta a superare i periodi di ritorni di freddo di basse temperature. Invece nella fase di foglia a bandiera consigliamo l'impiego di Yara Vita Azos 300 per ottimizzare la resa proteica della granella. Nel mondo Yara Vita Yara è riuscita anche a sviluppare una piattaforma tecnologica che prende il nome di Biotrig per lo sviluppo di prodotti biostimolanti nell'ambito dei quali si colloca Yara Vita Biotrack un formulato che applicato per via fogliare a dosaggio di un litro etaro nella fase di accestimento e anche nella fase di foglia a bandiera permette alla cultura di sopportare e superare al meglio qualsiasi tipo di stress abiotico. Nell'ambito del Protein Pass Yara negli ultimi anni ha sviluppato anche degli strumenti digitali per il supporto alle decisioni. Uno di questi è Etfarm, una app che è possibile scaricare sia su smartphone che su pc che attraverso l'uso di immagini satellitari è in grado di rilevare lo sviluppo della biomassa della nostra cultura e da lì formulare delle mappe di prescrizione con anche delle raccomandazioni a ratio variabile del nostro fertilizzante. Un altro strumento digitale per ottimizzare la nutrizione del frumento duro è rappresentato dalla app Yara Airix, un'app che è in grado di quantificare il fabbisogno azotato della cultura attraverso le letture dell'enetester bluetooth, uno strumento che misura la clorofilla nelle foglie della nostra pianta ed è in grado di fornire un consiglio di nutrizione mirato ottimizzando quindi quelli che sono i consumi in termini di fertilizzate sulla cultura.